Siamo a Milano a un incontro scientifico dedicato all'attualità e alle prospettive dell'immunoterapia dei tumori con gli inibitori dei checkpoint immunitari. Per il melanoma e il cancro al pomone ne sono già stati approvati alcuni, ma si inizia a intravederne le potenzialità anche per il tumore del colon retto, in particolare in uno specifico sottogruppo di pazienti. Ne parliamo con il dottor Michele Maio che su questo tema ha tenuto un'interessante relazione. Professore, quale ruolo oggi per gli inibitori dei checkpoint immunitari nel tumore del colon retto? Stiamo finalmente cominciando ad avere importanti informazioni sull'utilizzo degli anticorpi diretti contro diversi checkpoint immunologici anche nel colon retto. Dopo i dati ottenuti nel melanoma, dopo i dati ottenuti nel polmone, stiamo cominciando a identificare sottopopolazione di pazienti affetti da carcinoma e del colon retto che hanno la possibilità di beneficiare di questo tipo di trattamento. Quali sono queste sottopopolazioni? Sono sottopopolazioni che ormai cominciamo a conoscere molto bene. Sono le sottopopolazioni di pazienti che hanno la cosiddetta instabilità dei microsatelliti. Questa è una popolazione di pazienti di circa il 15% di soggetti affetti da cancro del colon retto, quindi una popolazione al momento ridotta, sulla quale però stiamo ottenendo dei risultati estremamente interessanti. Che dati abbiamo? Esistono già degli studi pubblicati? Ci sono dati pubblicati, ci sono dati pubblicati del tutto recentemente che sostanzialmente sono stati sviluppati attraverso l'utilizzo di un anticorpo che blocca il checkpoint immunologico PD1 o PDL1 e in soggetti affetti da cancro del colon retto che presentavano o meno instabilità dei microsatelliti. Che tipo di anticorpo è e come è stato fatto lo studio? È un anticorpo diretto contro una molecola che si chiama PDL1 e sostanzialmente i dati hanno dimostrato un netto vantaggio sia in termini di progression free survival sia in termini di overall survival nella popolazione di pazienti che presentava la mutazione dei geni per il mismatch repair rispetto ai pazienti che invece non avevano questo tipo di mutazione. Come si chiama l'anticorpo in questione? L'anticorpo si chiama Pembrolizumab, è un anticorpo che abbiamo disponibile in clinica per il melanoma, che avremo disponibile a breve anche per il cancro del polmone e che appunto sta dimostrando efficacia anche nei pazienti con instabilità dei microsatelliti affetti da colorecta o cancer. Sono già stati identificati dei sottogruppi di pazienti che traggono maggior beneficio dal blocco di PD1? Sono stati identificati nell'ambito dei quattro sottogruppi molecolari in cui recentemente sono stati divisi i pazienti affetti da colorecto una popolazione precisa di pazienti che ha una caratteristica molecolare molto precisa, cioè la cosiddetta instabilità dei microsatelliti. questa che fa sì che ci sia un maggior livello di eventi mutazionali, quindi di neoantigeni che derivano proprio dalle mutazioni presenti nel DNA di questi soggetti e questa è la popolazione nella quale noi abbiamo un maggior vantaggio terapeutico al momento con il blocco di PD1-PDL1. Ci sono altri studi in corso anche su altri agenti, altri inibitori di cerco quanti immunitari per i pazienti con il cancro del colon retto? Ci sono altri studi in corso, ci sono altri studi in corso con altri anticorpi diretti contro PD1, diretti contro PDL1 in pazienti che presentano la mutazione per l'instabilità dei microsatelliti, in pazienti che non hanno questa mutazione. C'è molta attività di sperimentazione clinica in questo senso anche in Italia e questo ci fa ben sperare, perché i risultati positivi che abbiamo ottenuto in altre patologie che hanno portato alla commercializzazione di agenti terapeutici di tipo immunologico che migliorano in maniera significativa la sopravvivenza dei nostri pazienti, possa in un prossimo futuro applicarsi anche ai pazienti affetti da colon retto al cancer.